Produrre il pane seguendo le modalità e le tecniche adottate dai nuoresi dell'età del bronzo. E' questo il piatto forte della prima giornata di archeologia sperimentale che si terrà sabato mattina nel complesso archeologico di Tancamanna a Nuoro. Un sito archeologico che si sviluppa attorno all'omonimo Nuraghe, che la scorsa estate è stato oggetto di una campagna di scavi portata avanti dall'Università di Bologna insieme all'Ateneo di Sasseri e alla sovraintendenza dei beni archeologici. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Nuoro attraverso l'assessorato all'ambiente, dal CEAS e da Biosardinia. I visitatori e gli appassionati saranno guidati in questo salto all'indietro nel tempo di 3600 anni dagli archeologi Demi Smurgia, Maurizio Cattani e Florenzia De Bandi. La parte relativa alla panificazione sarà curata dall'archeologo sperimentalista Pino Pulitani. La recente campagna di scavi, attuata con tecniche innovative, ha dato dei risultati sorprendenti sulla vita e sulle attività svolte dai nuresi dall'età del bronzo. Il Nuraghe e il villaggio annesso sono stati ricostruiti in 3D e sono stati trovati ambienti realizzati utilizzando schemi che non hanno riscontro in altri complessi nuragici risalenti a quel periodo. L'utilizzo dell'archeologia sperimentale poi ha permesso di riprodurre le tecniche di produzione di alimenti e manufatti. Nel corso degli scavi sono stati ritrovati diversi utensili, dalle macine ai fusaioli, che hanno permesso di ricostruire alcune delle attività quotidiane degli abitanti del sito di Tankamanna.